Buon pomeriggio ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a un nuovo appuntamento di Agorapenale. Oggi in particolar modo parleremo di reati ambientali e della nuova disciplina, i nuovi ecoreati. Una disciplina molto complessa, quindi non ne parleremo da soli, do immediatamente il benvenuto al professor Dario Bolognesi, titolare dello studio legale bolognese e notissimo penalista d'impresa. Bentrovato professore. Buonasera e grazie per l'invito. Professore, chiederei innanzitutto il suo aiuto proprio per iniziare col delineare la nuova disciplina. I cosiddetti comunemente chiamati ecoreati, cosa sono e quali sono un po' i perimetri di riferimento? Beh, questa nuova normativa è entrata in vigore nel 2015 e naturalmente se ne è parlato e se ne sta parlando ancora molto, sottolineando gli aspetti positivi e anche qualche aspetto negativo. Direi che in linea generale l'introduzione di questa normativa è stata assolutamente utile, anzi necessaria, perché a parte che vi è una direttiva europea specifica in questo senso, a cui l'Italia non si era ancora adeguata, ma comunque se ne sentiva la necessità, perché aumentando la sensibilità verso il problema ambientale, ovviamente ci si è trovato di fronte ad una situazione in cui la normativa vigente non era adeguata, perché per molti anni la materia è stata regolata dal testo unico ambientale che faceva riferimento a norme di carattere contravvenzionale e quindi anche con sanzioni molto modeste. E quindi a fronte dell'emergenza che i problemi ambientali hanno rappresentato negli ultimi decenni, era necessario rivedere questa materia, anche perché viceversa le procure della Repubblica, in assenza di una normativa adeguata, molto spesso avevano gestito i processi di questa materia facendo riferimento a norme come quella del 434 del Codice Penale, cioè il disastro innominato, addirittura il 439, l'avellonamento delle acque, che erano a loro volta forse inadeguate per eccesso in alcuni casi. E quindi l'introduzione di una normativa specificamente ambientale era necessaria ed è stato molto opportuno che sia stata introdotta nel Codice Penale, nel senso cioè che proprio per ragioni di chiarezza e di conoscibilità da parte del cittadino, il fatto che la normativa sia inserita non in una congerie di leggi speciali ma direttamente nel Codice Penale è garantistico. I problemi invece negativi ne parleremo tra poco, esaminando specificamente queste norme che lasciano problematiche di indeterminatezza e quindi di dubbio in ordine alle interpretazioni da dare che si potevano forse in parte evitare. Il 452 bis, cioè l'inquinamento ambientale, è una norma assolutamente nuova che introduce sanzioni quando si verifica, dice la legge, una compromissione o un deterioramento di una matrice ambientale che comporti un danno significativo e misurabile. Quindi la giurisprudenza e la dottrina e la pratica si sono subito confrontati con queste indicazioni della legge. Si è discusso che cosa significhi compromissione e cosa significhi deterioramento, se si tratta di una sorta di indiadi oppure se siano due concetti diversi. La Cassazione ha sottolineato come per compromissione si intende da un fatto particolarmente grave che attinge la struttura della matrice ambientale, mentre il deterioramento è qualsiasi situazione peggiorativa di quella precedente. Per quanto riguarda invece i concetti di significatività e di misurabilità e qui cominciamo a muoverci su di un piano scivoloso perché l'interpretazione è lasciata al giudice forse con troppi ampi poteri significativo, significa che abbia un'incisività importante rispetto alla matrice ambientale di cui parliamo e anche la misurabilità riguarda lo spessore di questo danno che non deve essere irrilevante. È chiaro però che questo ha già dato luogo e darà luogo ad una serie di considerazioni, di interpretazioni, però francamente non era facile essere più ligi al principio di tassatività. Il legislatore ha fatto del suo meglio sotto questo profilo. Invece il reato più grave, quello di disastro ambientale, crea ancora maggiori problemi perché si muove su tre ipotesi. La prima è quello di un danno di natura irriversibile rispetto alla matrice ambientale e qui l'interpretazione è abbastanza facile, anche se c'è anche un tema cronologico perché ovviamente nel tempo qualsiasi danno potrebbe essere in qualche modo recuperabile anche dalla natura. Quindi la interpretazione è quella di indicare un danno che non può essere risolto in tempi adeguati, nel senso che si protrarrà per un tempo che supera una generazione. Faccio per fare un esempio. Quindi anche in questo caso non c'è chiarezza oppure effettivamente questa generazione è stata in qualche modo disciplinato ed è un punto fermo. No, non è disciplinato, è una mia interpretazione, proprio anche in relazione alla preoccupazione mondiale che in questo momento si accomuna tutti proprio per non cercare di non lasciare alle generazioni future un ambiente troppo diverso da quello di cui noi abbiamo potuto usufruire. La seconda ipotesi è quella di un danno non irreversibile, però tanto importante da causare la necessità di un intervento massiccio, di un intervento anche economicamente molto gravoso per riuscire a portare in pristino la situazione. E la terza ipotesi che ha dato luogo, come adesso subito vedremo, a una serie di problemi, è il caso in cui indipendentemente dalla irreversibilità e indipendentemente dalla gravosità del danno faccia nascere però un problema di pubblica incolumità, nel senso che sia messa in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone. Cosa importante è questo reato di disastro ambientale di cui al 452 quater del codice penale contiene una riserva di legge rispetto all'articolo 434 del codice penale che è il disastro innominato. Questo ha creato una serie di problemi davvero notevoli, nel senso che si discute quando si debba fare riferimento al 434 e quando si debba fare riferimento al nuovo ecoreato. Ho tenuto conto che quest'ultimo prevede delle pene più gravi di quelle previste dal 434. Quindi questa riserva si capisce abbastanza poco, nel senso che sarebbe indicativa di una sussidarietà del 452 quater rispetto al 434. E forse è la terza ipotesi che il legislatore ha voluto inserire che crea questi problemi. Io contesto abbastanza che si sia fatta questa celta, perché se si voleva come si voleva produrre un pacchetto di norme che riguardassero l'ambiente e unicamente l'ambiente, non è stato a mio avviso opportuno inserire una problematica che attinge invece ai reati contro la pubblica incolumità, nel senso che è stata fatta una commistione abbastanza discutibile. Anche perché proprio la riserva di legge sul 434 che prevede il tema della pubblica incolumità come elemento costitutivo era una soluzione, nel senso che se il reato era di natura ambientale c'era il pacchetto di questo tipo, se c'era invece un problema di pubblica incolumità giustamente c'era la riserva del 434. Il problema si pone quando ci siano contemporaneamente il tema del danno ambientale e il tema dell'aggressione al concetto, al principio della pubblica incolumità. perché a questo punto si confondono un poco i piani, anche perché il legislatore ha inserito in un tipo di reati, che sono reati di evento, una ipotesi di pericolo che stona con l'indicazione di tipo generale. Il 434 era un reato di pericolo, ma i reati ambientali sono un reato di danno. Salvo questa ipotesi residuale che il legislatore ha ritenuto di inserire creando una certa problematica, anche perché ci sono autori i quali hanno ritenuto che il legislatore avrebbe potuto abbandonare questo concetto del disastro che crea una serie di problemi, che è stato inquadrato ai fini del 434 dalla Corte Costituzionale come un evento di mani proporzioni, di enormi proporzioni che si può verificare come non si può verificare in materia ambientale. Quindi il disastro di cui parla la Corte Costituzionale, di cui parla il 434, che è il crollo di edifici, che è il disastro ferroviare, eccetera, ha una certa natura. Ma avere unito questi due problemi per il reato ambientale con una riserva di legge crea dei problemi interpretativi, tant'è che qualche autore ha detto che il vero disastro l'ha fatto il legislatore. Perché se si va tanto a fondo c'è un lavoro di miei cari amici che sono gli avvocati Belle Valsecchi, i quali sostengono addirittura che questa formulazione normativa ha creato una situazione per cui il reato più grave, cioè il danno ambientale in cui c'è anche una problematica di incommunità pubblica, verrebbe punito meno gravemente del reato ambientale semplice perché si dovrebbe fare riferimento, secondo la riserva di legge al 434, che è appunto delle pene meno alte del 452.4. La Cassazione è intervenuta dicendo si va bene, però nel 452.4.3 presuppone pur sempre, siamo nell'ambito del danno ambientale anche se c'è la problematica della pubblica incommunità. Quindi in caso di danno ambientale in cui ci sia anche un pericolo per la pubblica incommunità si applica il 452.4. Però ripeto, anche questo concetto del pericolo inserito così genericamente in questo tipo di norma crea molti problemi perché il tema del pericolo nel diritto penale è un tema delicato e scottante perché non si sa se il legislatore pensasse ad un pericolo astratto e quindi ad un elemento costitutivo del reato o un pericolo concreto che quindi va provato. Io penso che intendesse un pericolo concreto che va provato, me lo auguro. Insomma, ecco perché poi nella prassi io vedo le cose dal punto di vista della mia professionalità e quindi dal punto di vista dell'impresa questo tipo di situazione che come sapete diciamo poi ricade sulla 231 e quindi su situazioni che possono provocare misure cautelari nei confronti della società fino alla fermata di impianti o della fabbrica costituiscono un problema perché se la legge non è chiara l'imprenditore non sa che cosa deve fare. Quindi questo, complessivamente però ripeto, questo pacchetto normativo era necessario, era opportuno ed è un bene. ha creato però anche una serie di problemi sotto il profilo della difficoltà dell'interpretazione e anche di una troppo larga autonomia lasciata al giudice nel valutare. Quando noi parliamo di inquinamento e parliamo di fatti significativi e misurabili, a che cosa ci riferiamo, ecco nel senso che è chiaro che diciamo lo stabilimento che inquina il fiume vicino e fino al mare non c'è alcun dubbio, quello sarà probabilmente anche, potrebbe avere addirittura le caratteristiche di un disastro, ma non so la perdita di qualche decina o anche centinaia di litri di idrocarburi da una cisterna, è un danno ambientale significativo e misurabile a un rilievo penalistico o no? Quindi l'interpretazione purtroppo è molto vasta, la Cassazione sta cominciando ad esprimersi in questi termini e in termini direi di ragionevolezza, però secondo il mio modesto avviso l'autonomia che è stata lasciata al giudice è un po' troppo ampia. Ecco, ha parlato e anche a Telecamere Spente abbiamo avuto modo di confrontarci sull'argomento di questi problemi e anche del fatto che chiaramente la giurisprudenza è neonata perché una legge del 2015 ovviamente ha una casistica ridotta di pronuncia. Per la luce di questo, cosa si sentirebbe di suggerire alle imprese, quali sono gli orientamenti che stanno prevalendo e di cui aveva iniziato ad accennarci? Noi stiamo vivendo numerosi processi in questa materia, in cui fra l'altro poi si propone anche il tema di cui anche io e lei abbiamo parlato, mi pare, accennato fuori dalla trasmissione e cioè dal concorso formale o meno delle varie norme, per esempio sull'omessa bonifica che come nuovo ecoreato ha una caratteristica collegata al dolo, mentre la norma precedente cioè del 257 del testo unico ambientale riguardava la colpa, ci si chiede come queste due norme possano convivere. Comunque non era questa la domanda, la domanda che lei ha fatto attiene alle problematiche di una redazione accurata dei modelli organizzativi e ad un'analisi del rischio molto approfondita, nel senso che, come posso dire, diciamo questo, che questi reati hanno come presupposto, come elemento costitutivo, l'abusività della condotta. Anche su questo si discute molto, cioè che cosa significhi abusività della condotta e se sia stato utile che il legislatore abbia inserito un'indicazione di questo genere, avrebbe potuto probabilmente rimettersi alla genericità dei temi del dolo e della colpa, però si è parlato di abusività della condotta. Allora, abusività della condotta significa che deve esserci stata forzatamente una violazione di legge? Certamente non solo, anche la violazione di un precetto amministrativo. Generalmente le società si muovono in base all'AIA, cioè autorizzazione integrata ambientale e il nostro consiglio, per rispondere a lei e alle imprese, è quello di tenere sempre monitorata questa autorizzazione che, benché venga concessa per lunghi periodi, comporta poi un'attenzione in fieri importante. C'è chi, per esempio, ha sostenuto che il mancato rispetto delle cosiddette BAT, cioè best available techniques, sia una violazione, nel senso che anche se c'è un'AIA e quindi un'autorizzazione ben precisa e però l'imprenditore non si adegua a quelle che sono le migliori tecniche previste e disponibili in quel momento storico, potrebbe commettere ugualmente questi reati. Io non sono assolutamente d'accordo perché in questo modo andiamo così nel generico, nell'imprevedibile da parte dell'imprenditore, ma l'ho detto perché, diciamo, ci sono anche autori che hanno sostenuto questo e hanno anche sostenuto che il fatto della esistenza dell'autorizzazione non impedisse teoricamente la commissione del reato se comunque, diciamo, si inquina o si crea una situazione di questo genere. Quindi, situazione difficile. Quindi quello che io consiglio ai miei assistiti è di mantenere sempre aggiornata l'analisi di rischio perché poi c'è una normativa, come posso dire, non scritta, che è quella, diciamo, della necessità per l'imprenditore quando utilizza determinate sostanze o quando si muove in determinati modi, anche all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale, di muoversi appunto secondo le migliori tecniche disponibili. Quindi, diciamo, quando si fa il modello organizzativo, quando si fanno le analisi di rischio, eccetera, bisogna essere molto concreti, non sono documenti che possano, come posso dire, essere redati una tantum, ma devono essere continuamente monitorati. Noi spesso, diciamo, è un documento vivo che quindi deve essere aggiornato e deve vivere con la vita dell'azienda. Quindi ogni minimo cambiamento deve essere tracciato nel modello affinché rimanga efficace e riesca a tutelare al meglio l'impresa. Avvocato, rimarrei sempre in tema di 231, anche perché siamo nel 2021, la 231 ha fatto 20 anni, noi stessi abbiamo dedicato una settimana intera tematica al tema in aprile. Ci siamo confrontati molto sull'argomento e in tema di nuovi reati ambientali, lo stesso lo diceva a poc'anzi, si è creato anche un po' di conflitto e di problemi. I famosi problemini che ha creato la legge riguardano anche l'ambito 231. Quali sono in questo caso i criteri di riparto e anche qui qualche suggerimento chiaramente? Intanto c'è un problema collegato ad una macroscopica svista del legislatore, perché mentre il 452 bis, l'inquinamento, e il 452 quarter, il disastro, sono rientrati nel perimetro della 231, stranamente il legislatore si è dimenticato di inserire il 452 third access e cioè l'omessa bonifica. Tant'è vero che ci sono dei progetti di legge recenti per... Leggevo, anzi proprio in questi giorni in realtà se ne sta discutendo moltissimo. per portare l'omessa bonifica all'interno della 231. Poi è una dimenticanza abbastanza strana, perché tutta la materia degli obblighi di bonifica, che come lei sa, attengono a chi ha inquinato, secondo il concetto comunitario di chi inquina paga, però attengono anche al proprietario non responsabile dell'inquinamento che ha tutta una serie di doveri di intervento per la messa in sicurezza urgente o per la MIPRE o per altri adempimenti, per cui il reato di omessa bonifica è il reato in cui facilmente può cadere la società, per cui il fatto che non sia posto all'interno della 231 è un problema da risolvere sicuramente. Nella prassi io per esempio vedo continuamente il tema cronologico che provoca questo tipo di reati rispetto alla prassi che riguarda le aziende e le società. Vale a dire che molto spesso noi ci troviamo di fronte a degli inquinamenti storici, per cui quando passa la proprietà da una società ad un'altra è difficile poi andare a discernere nel momento in cui c'è un fenomeno di inquinamento o appunto un'ipotesi di disastro, di verificare poi se, visto che dobbiamo riferirsi ad un soggetto che sarebbe autore di questo tipo di reato o di illecito amministrativo all'interno della 231, di vedere come si fa a stabilire e a specificare se il contributo che è stato dato ora rispetto all'inquinamento storico è significativo e misurabile, come dicevamo prima. Quindi i perimetri della responsabilità sfumano, ancora una volta non abbiamo certezza. È molto difficile, ci sono diversi processi che io sto, negli ultimi vent'anni direi che sono stati processi che sono durati decenni su questo tipo di argomento ed è un argomento sostanzialmente irrisolto. Per cui non so come si possa, è stato risolto in modo a volte molto tecnico e molto discutibile attraverso il concetto del reato permanente o del reato eventualmente permanente. Il reato permanente è una strana cosa, è una specie di tapirulang che coinvolge tutti quelli che vi salgono in qualsiasi momento della storia di un inquinamento. Quindi molto discutibile anche perché la giurisprudenza, la dottrina più qualificata fino ad alcuni anni fa parlava di reati istantanei, non di reati permanenti, nel senso che sia l'inquinamento che il disastro avvengono, si concretano nel momento in cui sono superate le concentrazioni soglia di rischio, nel momento in cui si crea quel fenomeno abnorme di cui parla la Corte Costituzionale per il disastro, poi il resto sono conseguenze di quel reato. Se invece noi mettiamo tutto sullo stesso piano, come dicevamo prima, il prima e il poi, diventa poi difficile discernere anche in relazione alle genericità di cui abbiamo parlato, di questa nuova legge, come attribuire delle responsabilità ai singoli o alle imprese. Io la ringrazio Avvocato, è stato chiarissimo, ripeto, in una materia che invece è assolutamente complessa, in cui la chiarezza, come abbiamo visto, è difficile anche da trovare nella giurisprudenza, proprio perché i contorni sono molto sfumati, come diceva l'Avvocato, e proprio in questi giorni si sta valutando appunto di inserire determinati cambiamenti, proprio per tracciare dei perimetri che aiutino maggiormente le imprese alla ricerca di quella certezza, che è tanto importante per operare in maniera serena. Quindi ringrazio l'Avvocato Dario Bolognesi per essere stato qui con noi. Io ringrazio voi per l'invito, buona serata. Buona serata, naturalmente, buona serata anche ai telespettatori di Le Fonti TV, l'appuntamento con Agorapenale per la prossima settimana, parleremo di intelligenza artificiale e metodi predittivi. Buona serata.